amici e guardoni della letteratura ma anche degli scacchi ben ritrovati con la rubrica delle micro recensioni di nuovo e ancora per un po ma per poco mi scuserò delle mie assenze latitanze dal canale davvero abbiate pietà miserere mei professori se il mio latino di tanti anni fa è ancora giusto abbiate pazienza di me avete misericordia di me professore è la fine dell'anno scolastico va bene qui nella puntata odierna della rubrica un libro molto molto bello la variante di l'uneburg di tale paolo maurensic scrittore è scrittore di zona del triveneto credo che sia di udine comunque zona di cultura di influenze mittele europee dallo stile un po austriacante nella sua bella prosa ordinata questo libro dell'autore è uscito nel 1993 io ce l'ho in un'edizione più recente di adelphi che vedete qui in copertina mi è stato regalato aneddoto per incominciare mi è stato regalato dal professore di elettronica che come me condivide una morbosa consumante del tutto insalubre passione per il gioco degli scacchi ed è un romanzo diciamo che comincia come giallo poi diventa romanzo di formazione e via proprio a sfondo scacchistico è un poco l'autore gioca sporco qui è un poco il metadone per l'eroinomene cioè sono quei libri che uno che ha in sé la passione per gli scacchi legge in modo ininterrotto io l'ho letto in un pomeriggio non è molto lungo per la verità ma ho fatto le due di notte cosa che io non faccio mai perché ho dei ritmi di vita da così da casa di riposo ma vabbè non è sempre vero questo ma al di là di queste stupidaggini ecco l'ho letto tutto d'un fiato perché un libro veramente veramente bello che deve diciamo così la sua bellezza il suo fascino per dire forse meglio al fatto che sa davvero toccare quella corda della passione assoluta della passione da 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 canto della sirena che attrae i marinai che esercita su tutti noi il gioco degli scacchi ora brevemente sulla trama dicevo l'autore è diciamo del triveneto di lontane memorie mitteleuropee infatti il romanzo è ammiettato proprio a vienna dopo la guerra ecco è un romanzo che si apre come giallo si apre con un assassino di un capitano d'industria chi viene trovato morto nel labirinto fuori nel giardino della sua villa fuori vienna questo tale era un appassionato di scacchi nella sua stanza viene trovata una scacchiera curiosa una scacchiera che consiste ad un cencio fatto a quadretti no con come pedine dei bottoni con le figure stilizzate incise sopra e chi l'ha ucciso perché ma chi lo sa la voce narrante si mette a contare di questo capitano d'industria che abitudinario appassionato di scacchi appunto aveva una rivista di scacchi lavora per cinque giorni alla settimana a monaco dove ha la sede della sua azienda poi nel viaggio di ritorno in treno accompagnato insomma dal suo assistente si prodiga in lunghe partite a scacchi e durante uno di questi viaggi viene avvicinato da questo estraneo che comincia a raccontare la sua storia scacchistica ecco io non vorrei dirvi molto 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 di più anzi facciamo così spoiler alert quindi chi vuol leggerlo si chiude alle orecchie insomma non spoilererò troppo ma si scoprirà poi che ci sono delle storie molto torbide che riempiono il passato di questo altrimenti anonimo capitano d'industria da giovane era stato un prodigio negli scacchi da giovane era stato un fanatico aderente diciamo del nazionalsocialismo un fanatico antisemita e si scoprirà poi che quel giovane che la avvicina sul treno altri non è che un allievo di un maestro di scacchi ebreo il quale aveva proprio subito le angherie del capitano d'industria dell'allora giovane promettente scacchista ed ss eccetera eccetera insomma non ve la faccio molto più lunga di così il libro merita davvero di essere letto è un libro molto bello dicevo il titolo da dove deriva dunque nel libro si fa un gran parlare di questa variante una variante della partita di donna non è specificato molto di più nel quale il nero sacrifica un cavallo per due pedoni e l'iniziativa il nostro antagonista il nostro capitano d'industria ex nazista cerca sempre poi nella sua carriera di giornalista scacchistico di studioso di scacchi di confutare questa variante di l'uneburg perché perché gliela giocava contro l'ebreo vincendo sostanzialmente ecco non voglio spoilerarvi molto è un romanzo molto molto bello volevo leggervi un trafiletto proprio all'inizio dice chi non conosce gli scacchi è forse portato a vedere in questo gioco un'attività noiosa adatta a eccentrici sfaccendati o a persone anziane a gente che possegge in ogni caso una gran dose di pazienza e una notevole quantità di tempo da perdere tutto questo è vero solo in parte poiché gli scacchi richiedono anche una non comune energia e la freschezza mentale di un fanciullo e se a volte il giocatore viene raffigurato nelle sembianze di un vegliardo dalla fronte corrucciata questa è solo la rappresentazione emblematica di un'attività in cui si bruciano i giorni gli anni l'esistenza stessa in una sola inestinguibile fiamma in cambio paradossalmente il giocatore di scacchi assapora l'arrestarsi del tempo in un'ansa di eterno presente quando invece è lontano dalla scacchiera allora sì che la vita gli sembra intollerabilmente veloce e cerca di ritrovare al più presto quel suo stato di grazia quella nebulosa e allo stesso tempo lucida condizione di supremazia che gli è dato assaporare solo quando la sua mente si concentra sul gioco quanto la noia credetemi egli non conosce il significato di questa parola potremmo mai immaginare che un soldato lanciato all'assalto possa provare un fremito di noia nella storia degli scacchi solo il sommo capablanca al culmine della sua carriera deve aver provato qualcosa di simile così perfetto era il suo gioco e tanta era la sua certezza di restare imbattibile che egli forse proprio per non correre il rischio di annoiarsi avanzò la proposta di modificare la scacchiere ed ingrandirla aggiungendovi dei pezzi per rendere il gioco più interessante ma anche lui di lì a poco avrebbe pagato clamorosamente il proprio peccato di presunzione eccetera ecco non vorrei dire molto di più è un libro davvero notevole che tutti gli appassionati come noi devono leggere si legge davvero in modo in modo mirabile molto 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 bello perché tocca molto in profondità certe cose che noi solo noi solo noi piccola banda di matti scacchisti conosciamo basta ecco signori non vi dico molto di più come sentite la mia recensione è molto è molto abbraccio davvero che devo finire di fare delle carte però ci tenevo a fare questa brevissima cosa valutazione gli diamo dai quattro stelline su cinque quattro e mezzo anche perché veramente certo non è un classico della letteratura però nel suo genere è veramente notevolissimo e l'autore tra l'altro ne capisce di scacchi e si vede ecco va bene cari io vi saluto torno alle sudate carte cioè alle sudate rotture di scatole burocratiche e ci vediamo molto presto tra poco siamo in vacanza per cui vi sarò più compagno compagno più più di sovente ecco ma mi raccomando mettete like iscrivetevi al canale e soprattutto fatti sempre molto molto i bravi grazie a tutti